Ciao a tutti, io sono Maria, bentornati in questo nuovo video. Oggi proveremo insieme questi auricolari Itozo Tonal Fizz. Ciao a tutti, io sono Maria, bentornati in questo video. Ciao a tutti. Sono leggeri e comodi da indossare, garantiscono un'ottima stabilità anche durante l'attività fisica. La connessione Bluetooth 5.0 garantisce una sincronizzazione rapida e stabile con i dispositivi. I controlli touch sugli auricolari permettono di gestire la riproduzione musicale, le chiamate e l'assistente vocale in modo intuitivo. Il suono offerto da questi auricolari Itozo è sorprendentemente buono per la fascia di prezzo. Sicuramente non raggiungono la qualità audio di auricolari più costosi, ma sono comunque più che adeguati per un ascolto quotidiano. Sicuramente non raggiungono la qualità audio di auricolari più costosi, ma sono comunque più che adeguati per un ascolto quotidiano. Sicuramente non raggiungono la qualità audio di auricolari più costosi, ma sono comunque più che adeguati per un ascolto quotidiano. Sicuramente non raggiungono la qualità audio di auricolari più costosi, ma sono comunque più che adeguati per un ascolto quotidiano. Sicuramente non raggiungono la qualità audio di auricolari più costosi, ma sono comunque più che adeguati per un ascolto quotidiano. La custodia di ricarica, che può ricaricare gli auricolari completamente per circa 4 volte, estende l'autonomia totale fino a circa 25 ore. Con una classificazione IPX8, questi auricolari sono altamente resistenti all'acqua e al sudore, rendendoli ideali per l'uso durante l'attività fisica e in condizioni atmosferiche avverse. La custodia supporta anche la ricarica wireless, una caratteristica molto comoda e rara in questa fascia di prezzo. Uno dei punti di forza dei Tozo Donald Fitts è sicuramente il prezzo, molto competitivo rispetto a quello di altri auricolari senza fili con caratteristiche simili. Parliamo di 45,99€ su Amazon. Questi Tozo Donald Fitts sono auricolari senza fili che offrono una buona qualità del suono, una connessione stabile e una lunga durata della batteria. Sono perfetti per chi cerca degli auricolari economici ma performanti. Io come sempre vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Un saluto a tutti e noi ci rivediamo al prossimo video.